La musica è uno straordinario mezzo di relazione con Dio. La musica eleva in modo particolarmente intenso la nostra anima perché è un'arte, è l'arte meno rappresentativa, potremmo dire l'arte che in qualche modo ci riporta le forme ideali e universali ancora prima che siano incarnate nella realtà e quindi è uno strumento anche di comunione con Dio molto intensa. Quando l'organo risuona nella Basilica di San Petronio questa esperienza è davvero grande e forte e gli organi di San Petronio sono uno dei tesori più preziosi della nostra città. L'organo dalla parte destra dell'altare è addirittura il più antico fra gli organi moderni e funzionanti nel mondo, fra gli organi di concezione moderna seguito dopo poco dall'altro organo. Sono di una sonorità e di una capacità espressiva davvero mirabile. Sono organi che suoniamo costantemente e abitualmente nelle nostre celebrazioni liturgiche e accompagnano anche la cappella musicale nel canto che sostiene le celebrazioni. L'organo da Prato è del 1471, l'organo Malamini, dal nome degli autori, è del 1586. Biomini, dal box a San Petronio, nel Minhone googare i 우리가 una responsabile di un score attrani. Il volume sui due venerandi organi della Basilica di San Petronio, nella nostra città di Bologna, è il frutto di decenni di lavoro del compianto Oscar Mischiati e di me stesso. Purtroppo Mischiati non può vedere questo volume che per lungo tempo è rimasto in attesa di pubblicazione, scoraggiando tutti per la sua mole, soprattutto la mole enorme di documenti raccolti dallo stesso Mischiati. Grazie per la visione!